Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati a se la prima volta benvenuti nel canale di Milan Inside oggi ragazzi prepartita di Empoli Milan partita fondamentale prima di cominciare però ragazzi gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in descrizione invece tutti i link dei profili social di Milan Inside il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com allora Empoli Milan ragazzi partita fondamentale perché è l'ultima prima della sosta l'ultima prima di avere a disposizione un periodo di riassestamento, di recupero, di ricondizionamento e l'ultima prima dell'apertura ufficiale del mercato di gennaio che porterà delle novità nella rosa prima su tutte quella del difensore centrale e a proposito vi farò probabilmente già domani un focus su Omer Alcic questo ragazzone svizzero che rappresenta domenica a San Siro dello Zurigo ma prima del mercato concentriamoci sulla partita Empoli Milan è una partita come dicevo fondamentale per chiudere bene l'anno per riacquistare fiducia per riacquistare credibilità per riacquistare i tre punti che mancano da Milan Salernità per quanto riguarda la probabile formazione abbiamo una bella notizia una brutta notizia che si evince già dai convocati usciti poco fa e una novità una novità di formazione allora la bella già arrivata negli scorsi giorni è il recupero quasi sicuro di Teo che tornerà a occupare il ruolo di terzino sinistro la brutta è la notizia data direttamente da Apioli ieri in conferenza starica in conferenza stampa dell'assenza di Ibra per un sovraccarico al ginocchio che quindi come confermato anche dai convocati non è stato non sarà disponibile non è stato giusto appunto convocato quindi toccherà Giroud e la novità probabile vedremo se sarà così novità di formazione riguarda che sì che giocherà prima di partire probabilmente per questa Coppa d'Africa che continua ad avere ribaltoni non solo da un giorno all'altro ma anche nello stesso giorno che sì che giocherà ma non nei due di ma non nei due mediani non nella mediana non al centro campo ma andiamo più in uno specifico allora modulo solito 4-2-3-1 Meglioni in porta in difesa da destra verso sinistra dovrebbe vincere ancora una volta in ballottaggio a destra Florenzi che non ha fatto male contro i Napoli a dire la verità dopo le prime difficoltà dei primi minuti su Elmas poi lo ha praticamente scusatemi lo ha praticamente annullato ha fornito veramente una buona prestazione contro i Napoli anche lui ha detto di essere praticamente quasi al 100% della condizione quindi dovrebbe esserci ancora una volta a Florenzi centrali giocoforza Tomori e Romagnoli potrebbe esserci una piccola possibilità di turnover con gabbia titolare ma sinceramente considerata che è l'ultima partita prima della sosta e che il Milan deve vincere non credo ci si avventurerà in turnover particolare e quindi credo che al centro ci saranno ancora Tomori e Romagnoli a sinistra come vi ho detto prima dovrebbe recuperare Teo quindi dovrebbe esserci lui a posto di Balloture nei due di centrocampo che i tonali e dovrebbe ripartire dopo un po' di tempo titolare Ben Nasser prima di partire anche lui per questa competizione che è la Coppa d'Africa sulla tre quarti allora Messias a destra Diaz dovrebbe riposare ma più che riposare in questo momento è una sorta di di protezione mossa protettiva nei suoi confronti nel senso che sono ormai da quando è tornato da Covid che non è più il Diaz di prima e quindi è inutile insistere facendoli piovere addosso critiche in un certo senso anche ingiuste perché non è nella condizione ottimale quindi tre quartista uno magari con Diaz Assente ci si aspetterebbe si aspetterebbe Kunic e invece dovrebbe esserci che si tre quartista a sinistra a sinistra il ballottaggio è tra il bosniaco Radekrunic e il belga Selemachers che è entrato molto molto bene contro il Napoli quindi credo che possa partire lui titolare davanti assenza di Ibrahimovic che ne va giocate anche fin troppe consecutivamente col recupero di Giroud dovrebbe partire lui titolare ora considerato che considerato che lo era recuperato settimana scorsa e col Napoli non aveva più di 25-30 minuti ora dopo due o tre giorni massimo ne può avere 45 sarà da gestire insomma o fargli fare il primo tempo o fargli fare il secondo io sinceramente forse li farei fare il secondo tempo non lo so perché ok dici fallo partire subito dall'inizio provi subito a sbloccarla ma se poi non la sblocchi il secondo tempo che fai ci giochi senza e se poi lo sfrutti più del dovuto che fa il sinvortunio un'altra volta no se è una situazione particolare che chiaramente sanno bene solo a Milanello come affrontare e Pioli e il giocatore stesso nel caso le opzioni per sopperire alla sua temporanea mancanza nel senso o nel primo nel secondo tempo o magari si spera meno minuti potrebbe essere potrebbe essere o Krunic o Castiglieco falso dove si mi vengono un altro po' gli occhi lucidi a pensare a questa soluzione però va bene questo è quanto questi sono i giocatori disponibili affrontiamo quest'ultima partita perché veramente come si suol dire siamo in mano a Cristo nel senso siamo in una situazione un po' tragica e di risultati e di infortuni affrontiamo quest'ultima partita poi risetteremo rifaremo un po' di riutilizzazione un po' di nuova condizione fisica di nuovo percorso per cercare una condizione migliore arriverà in mercato e questo è quando oggi 22 dicembre anniversario oltre che di Rivera di quando vinse il pallone d'oro anche di quell'Atalanta Milan 5-0 da cui ripartì la storia rossonera e quindi speriamo sia un buon giorno per il Milan questo è quando ragazzi io vi ringrazio vi ricordo ancora una volta gentilmente il like iscrivetevi al canale campanellina in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside il mio personale di Instagram e il sito internet www.cmilaninside.com ci aggiorniamo ragazzi nell'attesa di Fiamo sempre vicino ai colori rossoleri forza Milan ragazzi sempre